e salve a tutti in un nuovo video in questo video vi porto a fortnite prende a cominciare il video video che ti iscrivetevi al canale e lasciate un like adesso partiamo con il video e ragazzi sono ritornato dopo tanto tempo come che adesso iniziamo iniziamo cosa facciamo oggi veramente si è giusto hai cambiato anche prima quindi non cambia nulla video ma oggi cosa faccio in effetti ragazzi c'è io messo adesso tutto in tre di quindi guardate la grafica adesso guardate ragazzi guardate ragazzi che bello è la grafica quanto è bello guardate l'autobus non lo so ecco guardate che grafica addirittura che si in 3d comunque andiamo a come se è giocato anche la grafica è bellissima allora si scende non trovo nulla c'è non vedo c'è non niente come non riesco no no maledizione c'era qualcosa le vende ci sta l'ha fatto bene a scendere lo sapevo che c'era l'arco lo sapevo che c'era l'arco ecco perché sono preso l'arco non trovo è davvero non non trovo nulla lo sapevo realmente c'era la看来 non trovo unità non trovo obviamente le aspettate Sì 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 Un'altra Sì 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 Maledizione Maledizione C'è da dove... no 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 devo controlo non è vero non è vero non è vero è vero Ho già perso la... vita. Por senso, c'è giù. Da questa parte. O forse più. Maledizione. Lasciamo stare. Maledizione, che cos'è? Cambiamo la posizione. La posizione, che cos'è? La posizione, che cosa è un'altro. La posizione, che cosa stai orare? Cambiamo la posizione. La posizione orate? E' un problema. La posizione. Fa una posizione. Intanto prendo questo, no qualcuno è morto, penso orse di avere le frecce da qui, sei giusto? Sì, le frecce mi servono a questo, comunque mi è granato, sì. Quindi, Hai, chi è? Malo che ci siamo, ne? Qualcuno è? Aiuto. guardate mi scappa non mi interessa non mi interessa maledizione ma anche questo ma sotto sotto avevo già lo scudo avevo già lo scudo merce ma sotto sotto una faccia una cosa utilissima non passa attenzione scambina mangia questo grande questo via a 6 una cagli la lina farra farra Oh oh, ferma, devo prenderti, ferma, oh no, io devo prenderti, prendi i colpi, scegli, va bene, mi hai costretto, mi hai costretto, come che hai to perso, oh no, non far finta di essere povero, no, per fortuna sono già al 6, è là, no, no, non mi costringere, non mi costringere, ah, ecco, ups, qualcuno, fammi volare, fammi volare, fammi volare, via via, come che è utile questa roba, di nuovo, va bene, adesso lo buttiamo nell'acqua, tieniti forte, e vai. Benissimo, dai, manda, benissimo, adesso siamo in parola di te, no, no, guarda, 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 cosa fa, pensa di essere figo, no, il mio mira era giusto, giustissimo, no, oh, 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 mia, maledizione, scappa, no, e torna, maledizione, non mi interessa, non mi interessa, non mi, vai, maledizione, no, qualcuno mi ha tirato la freccia, no, cosa fa il lupo, no, cosa fa il lupo, no, se l' ammira, yeah, è persimo, se ese, aiuta, aiuta, via ah ah come ha fatto chi erito c'è l'ha fatto veramente l'ha fatto fuori tutto è un pazzo è pazzo ecco perché il lupo non uccideva cioè non lo sapevo aiuto 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 mi sento malissimo mi sento malissimo ahhhh ora si vede va bene lezartite pronti a morire per adesso scendo poi vedo è serio quello là che è sceso per finito o ha fatto per finito a me sembra che ha fatto per finito o serio chi lo sa scendì scendì non faccio scendì cambiai te nooo nooo che è basta va bene un metipa un un cosa è scudo ci sta basta adesso randam basta nooo 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 facciasi ting tang sono io dai finalmente questa roba fino a notte qualcosa la abbiamo cosa ho reso non mi serve questo benissimo interessante sante sante cos'è questa ma è epica 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 epichissima vediamo se riesco a togliere verità 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 nooo ho buccato la gomma ho buccato la gomma vabbè vabbè buchiamo anche questa va bene c'è io penso che fare un'altra cosa mi hanno fatto fare un'altra dove sono gli altri dove ah adesso devo andare in al safe via ma cos'è questo nooo nooo semmo sério allora prenda questa fine scappa oh eh no no se non funziona così allora fa bene fa bene bene niente di interessante questa attista attista ovviamente a 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 maledizione a 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 guarda non mi serve anche questa aiuto no sei tanto aperta la vita cioè non mai cioè fermati aiuto aiuto fermati aiuto aiuto va sotto e scappa salta si ferrò almeno facciamo questa venda maledizione maledizione se c'è 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 io mi metto in safe forse da questa parte sembrava mi sembrava di mettermi in safe e da questa parte c'è interessante così così si costruisce la sette c'è ma siamo gen safe quindi c'è qui ci sono di ci sono i porcelli o che non sto trovando nessuno interessante se 25 ci spera di fare la battaglia reale o basta ecco benissimo mi serviva e stelle qui qua e la prende ma dov'è lascia tata no era per finta lascia andare indietro ma comunque cosa faccio con me ecco tu voleva fare anche questa ma si prende anche un po' di materiali anche sono in safe eccola guardala guardala ho già visto qualcuna che è da questa parte dove sei cara mia forse ne so guarda no è la gallina ti aveva già fatto no il dinosauro i lupi sono circondato dagli animati che cos'è che cos'è ti dimmi che per finta non è davvero non è davvero c'è guarda cos'è c'è qualcuna qui spero di no e ovviamente no mettono per finta queste guarda cos'è chi mi trova qui se c'è qualcosa a di noi è forse forse è incastrata quindi tu no 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 non va no 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 basta hai hai parlato bravo c'è c'è 18 finito ah che agitamento ragazzi avevo il se io agitavo troppo quando io uccido qualcuno mi viene l'agitazione così non riesce a e qualcuno se vuole può anche offrirsi a essere ucciso ah mancano novi forse no anche tu che lì va bene va è niin vuoi va a bene vi concluderà poi l'hita serie a prezzo lasciate un'escritto al canale bandiera risolata già